Di seguito indichiamo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona, confine di Stato. Tronco A6 Torino-Savona, direzione Savona e direzione Torino. Traceva e millesimo deviazione della carreggiata per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 4 novembre con gestione dinamica delle corsie per garantire un miglior scorrimento durante i giorni di maggior traffico. Tronco A10 Savona, 20 miglia, confine di Stato. Direzione Italia, carreggiata Sud, tra confine di Stato e 20 miglia, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Galleria del Monte dal 16 al 20 settembre. Tra Andorra e Albenga, chiusura della corsia di marcia per installazione assorbitore d'urto cuspide di Albenga dal 16 al 22 settembre. Tra finale Ligure e Spotorno, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento Galleria Orco dal 16 al 20 settembre. Tra Spotorno e Savona, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dal 16 al 20 settembre. Direzione Francia, carreggiata Nord, tra Savona e Spotorno, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dal 16 al 20 settembre. Tra Spotorno e Fellino, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento Galleria Orco dal 16 al 20 settembre. Tra Andorra e San Bartolomeo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Galleria Collerico dal 16 al 22 settembre.